Rischia di diventare un piatto assai indigesto per il territorio aquilano il bando di gara predisposto dal comune dell'Aquila per l'affidamento del servizio mensa presso le scuole dell'infanzia, elementari e medie. Nel bando ad esempio si specifica tra i requisiti essenziali quello di aver realizzato un fatturato nell'ultimo triennio di 7,5 milioni di euro e solo nel settore della ristorazione scolastica. Inoltre si richiede tassativamente che l'azienda affidataria abbia a disposizione un centro cottura che distano oltre 15 minuti di tempo di percorrenza dalle scuole dove consegnare i pasti. Requisiti soprattutto il primo così stringenti che sono alla portata solo dei grandi big della ristorazione e che tagliano fuori praticamente tutte le realtà territoriali che potrebbero avere tutte le carte regole in termini di mezzi, personale e logistica per svolgere bene il servizio. Oltre a questo nel bando servono i produttori locali, non ci sono riferimento all'obbligo di servirsi almeno in parte di prodotti a chilometro zero in modo da aiutare il settore agroalimentare in crisi dell'Aquilano. Anzi si specifica a chiare lettere per il condimento dei primi piatti così come per le altre preparazioni si deve utilizzare esclusivamente parmigiano reggiano DOP con buona pace dei tanti formaggi altrettanto dietetici che vengono prodotti nell'Aquilano in Abruzzo. Un bando insomma che non sembra andare nella direzione più volte indicata dal comune dell'Aquila, quella di sfruttare ogni opportunità per aiutare l'economia locale in ginocchio che è riuscita a reggere al sisma del 2009 ma che vive tuttora enormi difficoltà nell'uscire di un'emergenza tuttora in corso.